Buongiorno, anche oggi facciamo i messaggi dagli angeli Allora, se aiuti gli altri, aiuti te stesso Infatti tutta la legge si riassume in un unico comandamento Ama il prossimo tuo come te stesso Allora, andiamo a leggere il messaggio Il messaggio è Da piccolo facevi il tuo meglio per dimostrare ai tuoi cari di amarli Forse a scuola hai realizzato un'impronta della tua mano nell'argilla E hai portato a casa come simbolo d'amore Hai dato ciò che avevi ed è stato più che sufficiente E lo è ancora Quando sei pieno d'amore È naturale condividerlo con le persone a te vicine E mentre lo fai aiuti anche te stesso È il momento di controllare come tra vicino o un amico caro o un membro della famiglia Forse qualcuno ha bisogno di aiuto O forse è il momento di chiamare quella cara persona che continua a tornarti in mente Puoi anche pregare chiedendo come puoi aiutare il prossimo Magari potresti donare qualcosa a una casa accoglienza o prestare volontariato per organizzare una profit Se aiuti gli altri impari a dar valore a te stesso Scopri come puoi essere utile E soddisfi il bisogno di sentirti necessario Ti avvicini inoltre a Dio Prendendo esempio del suo amore Compassionevole per tutti noi E infatti il messaggio era Infatti tutta la legge si riassume in un unico comandamento Ama il prossimo tuo come te stesso Questo è il messaggio di oggi degli angeli Vi auguro una buona giornata